Ciao, oggi vedremo come avvengono gli sbrinamenti e come ridurli. Infatti sai bene che la pompa di calore potrebbe ghiacciare all'esterno e allora oggi andiamo nel dettaglio di come avvengono questi sbrinamenti. Ciao, oggi ti faccio toccare con mano cosa succede all'interno di una pompa di calore. Partiremo un attimo dal concetto del circuito frigorifero, quindi vedremo un attimo le basi del circuito frigorifero e portino pazienza poi i supertecnici se non userò termini ingegneristici o non farò vedere formule matematiche stratosferiche perché se mi segui da un po' di tempo la mia missione è portare con parole semplici concetti difficili alle famiglie e a chi non è tecnico. Ecco avrai visto magari qualche video sul circuito frigo spiegato da qualcuno dietro una scrivania ecco io no, voglio portarti a toccare con mano a vedere le temperature che ci sono all'interno di una pompa di calore funzionante e perché quindi occorre lo sbrinamento. Prima di passare alla pratica però facciamo un passo indietro con la teoria. Questa è la semplificazione del circuito frigorifero. Vedi le freccette dove gira il gas refrigerante all'interno del circuito frigo. In basso a destra abbiamo il compressore, poi abbiamo il condensatore sulla destra, cioè quella parte che riscalda l'acqua del tuo impianto di riscaldamento e l'acqua sanitaria. Poi il gas va all'interno della valvola di espansione per finire poi sulla sinistra nell'evaporatore, cioè dove evapora. A supporto dell'evaporatore c'è un ventilatore per far passare l'aria e quindi avere maggior scambio termico con l'ambiente esterno. Per i più tecnici questo è il diagramma entalpico e oggi andremo a vedere la parte bassa, cioè l'evaporazione. Mentre adesso ti apro questa pompa di calore funzionante e vediamo nell'evaporatore cosa sta succedendo. Perché il gas evapori deve essere ceduto del calore a questo gas. Pensa per un attimo a una pentola piena d'acqua. Per portare a ebollizione l'acqua è necessario cedere calore. Quindi cosa c'è? Una fiamma che ha una temperatura molto elevata cede il suo calore alla pentola e poi di conseguenza all'acqua che è al suo interno. E quindi l'acqua evapora perché a un certo punto, a una certa temperatura e a una certa pressione dell'acqua, essa evapora. Prima di continuare con il tuo video mi dispiace interromperti, lo so che è sempre una rottura di scatole, però SigilloSicuro.it merita davvero, guardalo. È una rete di installatori che ti aiuta a vivere senza gas, a togliere il contatore, con centinaia e centinaia di casi già realizzati di famiglie che ora vivono senza gas. È una figata pazzesca. E poi c'è il canale YouTube Cerca Samuele Trento, iscriviti e clicca sulla campana a fianco. Ci sono centinaia e centinaia di video che ti aiuteranno a fare la tua scelta consapevole. E poi c'è un canale Telegram di cui trovi il link qui sotto nella descrizione del video. Un sacco di novità, strategie e approfondimenti su come trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto anche se hai radiatori. Una figata pazzesca. E quindi cos'è successo? È stato ceduto del calore dalla fiamma all'acqua. La cessione del calore, quindi il trasferimento del calore, avviene quando due corpi sono a due temperature diverse, una più alta e una più bassa. Quindi la fiamma è a una temperatura alta, cede calore all'acqua che è a una temperatura più bassa. Stessa cosa avviene nel gas refrigerante che c'è qui dentro, ovvero quello che gira all'interno dell'evaporatore. Cosa succede? L'aria è a una temperatura più elevata dell'evaporatore, del gas che c'è all'interno. Infatti vediamo con la termocamera cosa sta succedendo. Eccoci qui allora con la termocamera perché mi piace andare a fondo delle cose e vedere con i miei occhi. Allora esternamente abbiamo 5,4 gradi e la batteria, quindi l'evaporatore è a meno 13, meno 12, meno 14 gradi, quindi molto più freddo. Ecco, paradossalmente l'aria a 5 gradi è ben più calda rispetto all'evaporatore. Quindi l'aria cede calore al nostro evaporatore. Ecco, puoi ben capire quindi che il calore all'interno dell'aria passa al gas refrigerante che evapora. Si dirai, ma come fa a evaporare a così bassa temperatura? Perché? Perché è un gas refrigerante che a certe condizioni di pressione e di stato ovviamente può evaporare. Quindi considera come l'esempio di prima con la pentola e con l'acqua. Ma allora perché si forma la brina nell'evaporatore? Beh, il concetto è molto semplice. Se hai il gas refrigerante molto freddo all'interno dell'evaporatore, appena dell'aria umida passa attraverso l'evaporatore, si posa sulle alette di questo evaporatore. Quindi aria con umidità, si forma una sorta di una pellicola di ghiaccio che viene chiamata brina e questa ne impedisce poi lo scambio. Grazie a tutti.